con Calafiori per El Sharawi che taglia il campo centralmente adesso nel cerchio di centrocampo va a servire Ibanez che lascia il pallone a Carles Perez di nuovo centralmente per Cristante alza lo sguardo c'è Darboi, bella palla, attenzione per El Sharawi, El Sharawi supera il portiere El Sharawi, Stefan, El Sharawi e il farone mette la freccia alla Roma dopo 6 minuti in vantaggio è la cosa più bella, lasciamelo dire Andrea, è il bellissimo assist verticale profondo, intelligente di Darboi che vede la corsa di El Sharawi, coglie lo spazio giusto e il tempo per non mandare il compagno fuori gioco e Darboi subito protagonista con El Sharawi freddo superare il portiere a mettere nella porta sguarnita e dopo il gol al Sesca, il secondo gol in Conference League per Stefano El Sharawi bravissimo Darboi a pescare il farone in perfetta posizione percepiva che qualcosa potesse cambiare il pallone si muoveva da solo a volte alla battuta Pellegrini l'angolo e pallone dentro sul secondo palo Smolling 0-2 al 65esimo la palla la allunga sul primo palo Tammy Abram che è entrato discretamente in questo match arriva Smolling che la mette dentro schiacciando di testa da pochi passi la Roma certifica una superiorità che era diventata importante dopo i cambi vuole archiviare presto questa sfida così come il girone e sembra sia proprio così 2-0 bene così eh sì, adesso cambia ovviamente il volto della gara doppio vantaggio giallorosso la tocca cristante cristante non ha brachia la tocca cristante è uno schema ricorrente Fede si cerca sempre no? questo tipo di tocco sul secondo palo qui Mazzapura la parata alla fama è dentro la porta dall'altro il pallone neanche esce ed è il gol di Chris Smolling e quindi i cambi che hanno comunque l'effetto sperato quello di chiudere speriamo sia così la partita io mi chiedo se ci sia in Europa un giocatore che ha preso il numero dei pali di Abram penso di no ma è una cosa che adesso andremo ovviamente a a verificare perché può essere una statistica davvero particolare 66 e 40 Roma che è andata sul doppio vantaggio grazie al gol di Chris Smolling pronto un cambio sta per entrare Zaedi ma c'è ancora la Roma in attacco il Ceravi punta l'area di gore ancora il Ceravi e il Ceravi la serpentina qui prova addirittura a oltrepassare i corpi la fisica ancora non lo permette perché i difensori ormai si aspettavano la sua classica giocata a rientrare col tiro sul secondo palo lo aspettavano lì ha dovuto fare finta e controfinta bravo i bagnez in crescita comunque nel secondo tempo un pochino più abituato un po' meno pesce fuor d'acqua forse Calafiori Darboe il tocco per il Ceravi di ritorno ancora ottima qui la giocata di il Ceravi Zagnolo Pellegrini Zagnolo ancora attenzione alla palla per Ebram non sbaglio due tiri un palo e il gol e dategli il pallone a questo ragazzo 0-3 Sammy Ebram la chiude l'inglese insomma il marchio della qualità della sostanza la danno Abram Pellegrini Zagnolo è cambiata completamente la Roma lo Zorio ha smesso di giocare è in scioltezza andiamo sul 3-0 se Abram ha i palloni giusti ragazzi non deve fare solo quello che pulisce palle impossibili ma è un killer e lo dimostra in questa giocata eccolo qui Ebram torna in posizione regolare perché il tocco non è di Zagnolo è vero perché il tocco non è di Zagnolo infatti si reclamano col guardialine ma qui l'assist è di Favorov comunque non c'è non c'è non c'è Bar non c'è Bar cambia poco ma non c'è Bar non c'è Bar non c'è Bar